e ciao a tutti ragazzi sono dvj e oggi siamo su youtube articon ok allora è tipo uno youtuber sono uno youtuber e io mi chiamo dvj e infatti sono dvj ecco e direi di mettere no no che schifo no ok ok allora welcome to ok um allora hmm ok io sono dvj ecco allora io vorrei fare ehm un video però non so come si fa new ah ecco allora cerco di fare un vlog per prima si però ecco ronay lo voglio chiamare allora lo chiamo vlog a new york aspetta se è new york ok new york grande ok plug a new york pubblica ci mette poco per fortuna ok si sta lo sto editando che figata guardate oh mio dio ok e è pubblicato no pubblicato oh mio dio quante visualizzazioni sto sto ma veramente si fai un video ogni 100 visualizzazioni mi piace quindi non ha senso non ha senso ok ho 100 euro e guardate quando arriva a 700 ecco mi da così ok vorrei fare un nuovo video e iniziare ho 9 iscritti e 109 dollari quindi ogni iscritto un euro un dollaro faccio un gameplay però lo voglio chiamare come voglio io ok allora lo chiamiamo no se è un gameplay ok minecraft episodio 1 avrò guarda ho scritto male perché avrò una casa punto interrogativo ok quanto ci mette non me lo fa vedere perché c'ho sta pubblicità si sta editando però editando si sta pubblicando e ok questa pubblicità la audio cavolo quanto la audio la pubblicità non si leva però ho visto che il video del vlog 900 visualizzazioni dovrebbe essere questo 600 ok quindi piacciono più i vlog dovrei andare allo shop e prendere un nuovo gioco no spesso monicraft ok minecraft oppure kill of dota kill of duty ma perché sti nomi direi di prendere minecraft va ok andiamo ai video aspetta miei video eccolo vedi 968 visualizzazioni direi di fare un game di di minecraft troppo allora lo chiamo lo chiamerò un nuovo mondo no un nuovo mondo così ok è fatto ora mi sta raggando tutto pubblica oh mio dio mio dio ok si sta pubblicando ora ora si sta editando pubblicando ok allora e quante visualizzazioni già iniziamo ok io ho 15 iscritti e ho 81 euro e oh 86 ok e però io vorrei dire ranking che vuol dire vabbè ah ok noi siamo qui qua ci sono tutti i nostri video ok commenti zero ok ok allora direi di ritornare qua e dovrei andare calenti ok ok allora andrei a vedere i video i nostri video beauty and fashion non aspettate nuovo video di musica e si ok lo chiamo lo chiamo canzone cina horror la scritta cavolo che canzoncina horror e ok vediamo editando si sta pubblicando ecco 3 2 1 eccolo qui ok quante visualizzazioni e mi piace oh cavolo ok abbiamo 35 iscritti e potrei prendere kill of dotam kill of duty e si vediamo shop no no voglio comprare un vlog live in the beach party in my house no parto in casa no no aspetta voglio voglio comprare shop ok e make up make up ok make up costa 15 dai lo facciamo nuovo video beauty fashion e faccio make up ok no make up numero 1 hashtag 1 ok e questo è semplice da da me da fare studio si chiede e ok ok ragazzi quando finiranno oh mio dio quante visualizzazioni anche se io sarò un maschio quindi il make up tipo mia sorella boh ok e oh mio dio ragazzi il vlog 35 iscritti mi ha fatto il gameplay 6 cavolo oh mio dio abbiamo superato i 70 iscritti quando arriva 100 faccio lo speciale ok i soldi oh mio dio crescono tantissimo ma allora ragazzi questo video termina ora vi farò molti episodi di questa serie perché è molto carina e ci rivediamo al prossimo video pace col make up ciao